ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo dopo la perturbazione del weekend il maltempo si sposta lentamente al sud portando piogge e maltempo fino lunedì e martedì a seguire nuovamente alta pressione alta pressione di origine africana porterà nuovamente bel tempo piccolo aumento termico ma soprattutto scarse probabilità di pioggia grazie 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 grazie